Io non volevo fare questa serie perché quando ho letto la sceneggiatura e ho letto che dovrei stare sei mesi su una barca ero terrorizzata perché io odio le barche, odio il mare, io per me se mi porti in vacanza in barca perché mi vuoi far del male e allora ho detto no io questa cosa non la posso fare perché io soffro del mare, mi dovrete drogare per farmi salire invece sì infatti mi hanno drogata e allora però Carmine mi ha convinto perché mi ha detto guarda che giriamo tutto a terra ho detto come a terra non ci credevo e poi mi ha portato in questo studio dove ho visto questa barca, questa piattaforma vera e mi sono sentita di stare veramente sul sed di un grande colossal, ho detto ma cosa stiamo girando Titanic? No era bellissimo e mi sono quindi ritrovata in mare vero, siamo stati veramente pochissimo, sempre drogata ovviamente e quindi passare questi mesi su questa piattaforma che si con le bombe d'acqua eccetera devo dire mi sono divertita molto perché questo gruppo era bellissimo, sono tutti pazzi, il regista ancora di più degli altri quindi è stata veramente bellissima questa esperienza e quindi vorrei ringraziare la Rodeo Drive, la Rai e tutti quanti è stato bellissimo che la droga però usata è tè, mate e roba del genere, cioè Red Bull e quelle cose così per cui tranquilli Ah oddio scusatemi No tranquilli No ma io parlo No perché magari si diffonda questa cattiva notizia No ma tranquilli No io parlo di xamamina, xamamina, oh ragazzi xamamina eh No scherzo, era solo per dire che appunto diciamo tra le camomili ad alcuni e però poi il tè citante ad altri Una poliziotta ma soprattutto una madre a cui ahimè hanno raccontato che suo figlio è morto per cui in realtà cercherà la sua verità, una verità che sente nel sangue E quindi ci saranno queste due verità, una verità di terra e una verità di mare E bisognerà vedere quale delle due vincerà Poi tra l'altro la verità si nasconde sempre in tutte le menzogne per cui in realtà si troverà in modo Questo, lei è un po' una ferita aperta Che vaga Tenterà o di rimarginarsi oppure di miracolosamente guarire Vedremo cosa accadrà Sì, l'ha costruita prima lui per cui era un poliziotto rigido e maschile Innamorata di suo figlio Quando suo figlio non c'è più C'è qualcosa nel suo sangue che ribolle e le dice che forse non è esattamente così Sarà vero o no? Non si sa Quindi va a finire nelle sue oscurità Lui diceva ai carruggi appunto come misteriosi Come le viscere, come l'intestino, come Plutone, come il buio Che però poi ci permetterà di rinascere Per cui tentiamo di fare quella cosa Mi auguro di esserci almeno un po' riuscita Grazie a lui tanto E grazie ai miei compagni di lavoro Lei soprattutto Marta Camilla Con cui lavoro tantissimo Vero lavoro tanto con lei Non mi ricordo più perché non l'ho vista Per cui sì, adesso te la passo Sì, io sono il principale ostaggio del personaggio di Pia Una volta rientrati dopo il naufragio a terra E Marta è un personaggio che Una donna molto poco realizzata Parte in sordina e vive un po' all'ombra di questo marito Figlio di Anita, Gabriele Che ama sin dal primo momento Ma che è abbastanza presente nella loro vita E la sua persona si ritira sempre di più Il naufragio farà da detonatore E esploderanno una serie di cose Che lei sicuramente non saprà gestire E sarà messa all'angolo sempre più da Anita Che la userà per cercare di capire Per cercare di scoprire Che cosa è effettivamente successo al figlio E a tutti noi Io interpreto Lara È una donna forte Che crede di essere autosufficiente E poi pian piano come va avanti la storia Capisce di aver bisogno Come credo gli altri personaggi Di amore E ha bisogno di far parte di un branco E insomma lei pian piano scoprirà appunto Di voler a tutti i costi appartenere a questo gruppo Che poi alla fine ognuno per sé Diciamo è Dio per tutti Che è quello che poi succede Quando ci troviamo nella vita reale In una situazione di estrema Estremo pericolo e sopravvivenza Quindi ringrazio ancora Carmine Per Carmine, la Rodeo e la Rai Per questa grandissima possibilità Di aver vissuto questo Di aver preso parte a questo viaggio Come dice Carmine Ed è stato un viaggio meraviglioso Meraviglioso Grazie Insomma il mio personaggio Ma tutti i personaggi Tutti i sopravvissuti Sono perseguitati Dal personaggio di Pia Da questo desiderio di verità Per cui certamente Nascondono un qualche cosa Di misterioso Che poi dopo il naufragio Li ha cambiati Li ha cambiati profondamente Un po' come poi può accadere Anche nella vita Come diceva Lino Anche la sopravvivenza Di ognuno di noi Probabilmente ci cambia Faccio parte dei sopravvissuti di terra Nel senso che È una razza No, è così Nel senso che si tende a pensare Che sopravvissuti Sia un titolo che si riferisce Esclusivamente alle persone Che affrontano naufragio Che sicuramente è un'esperienza Particolarissima e devastante Però abbiamo anche altri sopravvissuti Che sono le persone Che prima si adattano E cercano di sopravvivere All'idea Che le persone che amano Non possano tornare E quando ritornano Dopo aver creato Un nuovo equilibrio Quindi essere riusciti A mantenersi a galla Scusate l'uso di parola Devono sopravvivere A loro ritorno E ricostruire Cercare di ricostruire Rapporti con persone Che non Che non sono più le stesse Ci riescono Non ci riescono Ognuno cerca Un modo E anche perché Loro partono E tornano E trovano vite Che comunque sono andate avanti Nel mio caso Anche in maniera Senza svelare nulla Abbastanza Evidente E Ritrovarsi è difficile Perché se ognuno di noi Immagina la vita Di ciascuno Come un viaggio Siamo tutti un po' Sopravvissuti E quando i viaggi Si fanno separatamente Si cambia Si va in direzioni diverse Insomma Ritrovarsi è complicato E penso che Da un punto di vista umano Questa storia Racconti Anche semplicemente Senza andare a cercare L'epica Del naufragio Anche questo Cioè riportandolo A una sfera emotiva Di ognuno di noi Persone Nessuno di noi Insomma si augura Di far parte Del naufragio Però racconta anche questo Nelle relazioni Ecco Volevo dire questo Ah mio marito Sì Sì salve Che fortunata Che sono Vincenzo Si era detto Prima Elena Io non ho niente interessante Da dire Quindi vai Quasi come sempre Come sempre Buongiorno a tutti Io interpreto Titti Sono la sorella Di Giulia Anch'io faccio parte Della schiera Dei sopravvissuti Di terra Mi sembra Un'espressione Molto efficace Perché effettivamente Il personaggio Di Titti Allora Partirei col dire Che mi ha Divertito E mi ha Moltissimo In scrittura Perché È un personaggio Stonato Complicato È una donna Già adulta Che però È piena di magagne Di complicazioni Di cose Inafferrate Inafferrabili In qualche modo È sconnessa Il ritorno Dei naufraghi Ovviamente Anche per lei Avrà un Grande Impatto Non so cosa posso dire Chissà Ha un grande impatto Ha un grande impatto Che appunto Si Innesca Nella sua vita E che genera Un cambiamento Enorme E tramite Il rapporto Con Nino Interpretato Da Luca Castellano Che è un giovane attore Bravissimo Con il quale ho avuto Piacere Di lavorare E Attraverso questo Attraverso questo Rapporto Titti Cresce Finalmente Forse anche Ma forse no Non so E quindi Insomma È un personaggio Molto vivo Molto Molto Fausto Sciarappa Va bene Buongiorno a tutti Io sono Grato Veramente a tutti Per un unico motivo Perché Grazie a questa serie Ho conosciuto Vincenzo Ferrera Quindi è stato Un incontro Illuminante No io interpreto Stefano Bonanno Che Mi sento Onestamente Di dire È L'unica Vittima Perché Tu sei pazzo Lui Adesso spiego perché Perché È finita la serie Perché No perché Pur con il cuore A parte dover gestire Il fratello diverso È abbastanza complicato Ma Pur con il cuore A pezzi Per aver perso Il suo amico Di una vita È riuscito A un certo punto A trovare l'amore In Sylvie E poi Il ritorno Di I naufraghi Lo costringe A trovare Un certo equilibrio Tra la gioia Dell'amico ritrovato E la E la Grazie Fausto Apprezzate la lotta Contro lo spoiler Che stiamo facendo tutti Io interpreto Nino Berger Sono il figlio Di Giulia e Frank E tendenzialmente Faccio parte Un cambiamento Poi Nei rapporti con Le persone Di terra Chiamiamole così E E poi è un personaggio Che ha Un grande punto di luce Tendenzialmente C'è una sorta Di speranza Nascosta sotto Ed è un po' Rappresentata Dal personaggio Di Interpretato da Margherita Resti Maia Che è un po' La sua punta di diamante Un po' Il suo La sua speranza E ha anche un rapporto Molto Molto Complicato Con la zia E Ma questo Poi si vedrà Direttamente Nella serie E questo Quindi lascio la parola A Margherita Grazie Buongiorno Buongiorno a tutti E Io interpreto Maia Che è questa Adolescente Sono la figlia Di Luca Che è interpretato Dal libro Maggiale E Silvie Sono fondamentalmente Innamorata Del papà E quindi Per me Quando Ci lasciamo E scopro Che È disperso In questa tempesta Quindi non ho più sue notizie Soffro molto Ho diciamo Il cuore spezzato E Maia Sarà l'unica A mantenere La speranza Viva Anche quando Tutti Le andranno Contro Grazie Sono Sono Azzurra Merenda E interpreto Il personaggio Di Camilla Giuliani La figlia Minore Di Luca Interpretato Da Lino Guanciale Le caratteristiche Di Camilla Sono Che È Molto Forte Che Capisce Subito Quello Che succede Grazie Grazie